Se avete poco spazio nella libreria avete due possibilità. La prima è quella di comprare un ebook, la seconda è quella di comprare un libro come questo, Storia dell'architettura italiana 1985-2015 di Birachi e di Micheli, perché dopo che l'avete letto lo prendete e lo notate. Questo libro vorrebbe parlare dell'architettura degli ultimi 30 anni, ma poi basta osservarlo attentamente e di certi personaggi, per esempio Zevi, che sono stati fondamentali nella storia dell'architettura italiana, soprattutto negli anni 90, due citazioni di altri che invece sono stati deleteri o comunque poco importanti decine di citazioni. Gregotti 50 citazioni, Purini una ventina se non una trentina, Baku, il gruppo Baku 10 citazioni. Il gruppo Baku nel giudizio degli ultimi 30 anni della storia dell'architettura italiana è cinque volte più importante di Zevi. Si dirà, ma questo libro si occupa di sociologia più che di architettura, ma anche in questo caso si tratta di una trattazione molto insoddisfacente. Non si parla del caso Casamonti, si parla poco, più che poco si parla in maniera elusiva del caso Boeri, non si affrontano i nessi tra gli architetti e il potere politico. Si dice per esempio che il Partito Socialista fece ricorso ad alcuni architetti, però non si cita la figura di Paolo Portoghesi. Insomma mi sembra che anche da questo punto di vista il libro sia molto insoddisfacente, se non reticente, se non elusivo. La terza colpa è ancora più grave perché il libro non tratta quasi completamente di tutto quello che è il mondo del web, dei blog, di una nuova cultura dell'architettura che sta prendendo piede attraverso quella che è la rivoluzione digitale. A proposito non parla neanche di tante persone che si sono occupate della rivoluzione digitale, come per esempio Saggio, come Brizzi. Insomma un capitolo totalmente inesistente. E poi una quarta colpa gravissima che è quella di parlare dell'identità dell'architettura italiana, dimenticando che l'architettura italiana ormai la si fa in gran parte all'estero e non nelle aule delle università. Il tono, il tono poi è insopportabile perché di qualunque architettura o architetto che si esamini prima si fanno i complimenti, insomma una marchetta, poi però si solleva qualche dubbio in modo da salvarsi dal punto di vista critico. bello questo trucco, ma bisognerebbe utilizzarlo più spesso. Storia dell'architettura italiana? Diciamo di no. Allora lo chiamiamo Birachi e Micheli dell'architettura italiana. 1985 mettiamo 2013, dopo che abbiamo scritto questo, prendiamo il libro e come dicevamo prima, lo leggiamo e poi lo buttiamo.